16. Costantinopoli Ho letto che uno dei rami della Chiesa delle Origini, l'ognosticismo, al quale partecipò lo stesso Giovanni Battista, credeva fermamente nella reincarnazione. Nel Vangelo di Matteo 11.11.15 si legge In verità vi dico, tra i nati della donna non v'è nessuno più grande di Giovanni Battista, e se lo volete accettare, è lui, quell'Elia, che deve venire. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Perché la Chiesa non crede più nella reincarnazione? Commento Perché è stata travolta dai capricci dei papi, di imperatori e dai traffici di Stato. A poco a poco la fede nella reincarnazione fu consumata, fino alla bocciatura finale nel concilio di Costantinopoli del 553.